Musica 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 Grazie. 10? No. Quest'anno ha Castellaccio. Quest'anno Castellaccio? Quest'anno Castellaccio. Perché a Castellaccio ci giocano i 2003 fanno i regionali, fanno una partita si e dicono perché... fa cagare. Eh, se vieni a luglio. Vabbè come questo. Non è tanto di gara. Quattro c'è la scuola? Vai, c tu. E quindi si fanno la misa… Mi cazinho. Mi ce piazza? I piazza? Quattro? Quattro? Que fanno? Fanno, fanno, fanno. Muschiosissimo Mamma mia che rischia cazzo Mamma mia che rischia Guarda Nino, guarda Nino Mi riesci a riprendere? Mi ho portato l'ombrello di questo signore Non mi fa vedere una parte di campo Ho fatto disposto al mio posto Non riesco a vedere bene Non è il mio posto mio? Non è il mio posto mio Non è il mio posto mio Non è un po' più di spazio Sono detto al buco Troppo spazio Troppo spazio No, così Bene, perfetto Molto bene Mi sono un po' perso questa azione Non so se Poi taglio È difficile giocare a calcio oggi Oggi è molto difficile giocare a calcio Sarà dura un po' Grazie Mi sembra puntato bene Mi sembra puntato bene No, poi non riesce a prendere E' il campo non c'è Non c'è Vale qui Non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon amante. Ciao a tutti. Dan, sali su se riesci. Perché se no ti riprendo... Grazie. Se no c'è una fatica, non ti metti a... No, meglio che niente, dai. Sarà il massimo delle... Delle riprese. Dai, dai! Dai, Nico! Dai, Nico! Buona tira! Porca puta! Oh, Nico! Dai, vi attacca il palla! Ragazzi, non troppo... Non tutti, su. Ma a parte loro hanno una punta sola. Stai lì, tu, vi. Bravo, panda! Bravo! Bravo! Ti chiesti voi, ti chiesti! Mangolo! Mangolo di chi? Non era l'altro fallo, dai. Non era l'altro fallo, dai. Non era né uno né l'altro, però... Non era l'altro fallo, dai. Non perdiamo gli uomini, eh! Non perdiamo gli uomini, eh! Grande ali! Grande ali! Grande ali! Uh! Mamma mia! No, è Patrick! È Patrick la passata! Sì. Eh, vabbè, se l'ha trovato addosso. Mio santo! Sì. Sì. Presta! Aiutalo! Subito, andiamo. Sì, vabbè. Angolo? Dai attaccalo, attaccalo! Dai su che scivola! Hai visto? Allora sulla fascia qua! Cristoforo! Ah va bene, va bene! Buona, buona! Buona, buona! Dai, dai! Brava, Albitra! No, che palla! Bravo! Oh, bella eh! Dai Matte che buona! Vieni bene! Perchè la faccio cadere davanti? Togliela lunga! Che voglia! Va bene, dai, dai, dai! Difficile, difficile Cazzo non fai l'altro male Via, via, via Fai, via, via Questa è molto giocata Vai che buona uno lì torna indietro bravo turi bravo turi bravo turi guarda Grazie. Vai, buona, buona, buona. Buona, buona. Buona, buona. Che? Appelli, depite, selosa. Buona. C'è troppo di stare. Un po' di parate. 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 Bravo. Bravo. Non fa a farlo. Un po' di parate. Non era piaciuto, non era piaciuto. Ci sono bassi, ci sono bassi. Occhio fuori il gioco. Occhio fuori il gioco. Ma dai, quella palla dietro. andate anche avanti ragazzi bravo 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 Ok, vai, acce. Dai, ragazzi, su. Uno largo di qua, non sono mai largo, non so. Uno largo, deve stare largo. Sì, eh. I talloni lunghi, cazzo, sono sempre quelli... Dai, che bella. Ah, dai! Guarda, guarda. Mamma mia. Proprio bisognava attaccare la palla, porco, giusto. Oh, piede alto! Dai. Un sinistro. Dai, Andre! Che bella palla che è passata lì. Hai visto qui? C'era uno largo che arrivava dentro a tirare. Non so, tutti si fanno attrarre, ragazzi. Siete in quattro con uno. Uno lì. Bravo. Grazie. Troppo lento. Troppo lento. È difficile far dolore. Deve morire il portiere. Dai, pressalo. No, porca vacca. No, per lento. Non so, per favore. Dai, se ti si è passata. Non so, per favore. Ma non so, per favore. Non so, per favore. dai alza alza dai alza alza io proverei prova secca piena buongiorno oh è calcio d'angolo eh si era un po' più scostata adesso il pallone cibo eh se lo tiri si era un po' più laterale credevo che no che cazzo la metto no no vai fili dai 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 la ripartenza buona buona può lasci bravo newetta prova prova bravi dai 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 d MAI che va un po' di nevica dai vinnavo questa partita a palle di neve oh che il pallone è sulla lunetta buah da cazzo dai che lì il pallone va sulla lunetta uomo bravo Matte questo pezzo di palo uomo 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 tagliela, ma no, tagliela, porca troia c'erano tutti e due lì, con Ante subito oh poco Poi tu rimetti laggiù Non c'era lo spazio Forse solo sul primo tocco c'era lo spazio per tirarlo e dopo è rimasta lunga Solo sul primo Vai! Ah, che voglio Il nostro È là con la giacca pruncchia È là con la giacca pruncchia Non è che vi faccio letto giacca Sono troppo avanti È là con la giacca pruncchia È là con la giacca pruncchia Non va su nessuno Uno dei centrali, perché non va su? Dov'è Patry? Sì Attacca il pallone, dai Turi, io andrei un po' più avanti E lì, la pallone arriva di sicuro Patry che hai fatta l'era la 10 Il racconto per 10 Almeno Sei qua Dai Turi, dai Turi La luce spenta, bella È troppo sul portiere Non è mai ricordo Aspetta Aspetta No, gioca, gioca Aspetta Buttala fuori Buttala fuori Buttala fuori È bellissima Sono male La gamba Sì Non stavo guardando Sì Però qui e poi la rivediamo Se ne ti scaccio prima Ti guardi Chi andai dentro ti guardi Poi due volte Chi ha fatto così Real Madrid con No Barzellona con Sì Una volta Uguale così Invece da farlo al portiere Lui è andato a fare gol Era Mircea Lulcesco Era coordinatore Ah Che casino hanno fatto Beh, ci credo Bravo 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 Ragazzi Giocate calcio Oh Per quello che avete il pallone Non ti chiedi Go Sterno Sterno Sì No 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 Non c'è No 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 Eh Allora che scivola dai prima della mezza non passa di sicuro dai mosca prova fili qui si che si poteva provare e io adesso vieni tu fuori gioco tanto ma fuori gioco ma di brutto ma di brutto 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 dai due vai nico era giallo anche ha fermato il gioco fai tirare le pietre lui si scappava era da solo nuova picca fai tirare le pietre fai tirato così bene perché non tira di nuovo te frutto ma sono tirato bene prova giorgia eh vabbè dai lo metti a giro nico è partito male aveva troppo dritto non era già da lì se fate che il fatto è che che la prima della situazione è un'altra amm a te ho tirato la bomba prova! porca c***a poggiala ma non te lo danno il tempo di spostare la palla a cristo bravo pierre abbiamo fatto esercizi nel dia posto vai nico vai nico ma c***o l'ha tirato da dietro no ma perché adesso il mister ma c***o ma c***o ma c***o non c***o non ce l'ha perso con l'antra della tua ma si è il primo che deve stare non c***o non c***o non c***o no c***o Siamo! Andiamo, andremo! Andiamo, andremo! Siamo, vabbè! Dai, dai, vabbè! Vai, vabbè! Siamo, vabbè, vabbè! Siamo, vabbè, vabbè! Vabbè! Bravo, Filippo! E' ci ricazzo! Bravo, Filippo! Sì! Vai, André! Come viene, André? Dai! No! Ma cazzo! Ma roba davanti! Ma cazzo! Volta, volta! Venta con il gioco! Ma che roba! Bravo, Filippo! Non si fa a far diventare il tuo numero uno! Dai! Dai! Dai, dai, dai! Ma che figa di me! Ma no! Ma la secca lì, no! Puttana Eva! Allora tu te lo spetti! La tirata addosso! Col portiere per terra! Bu! Ma che figa di te! E' grosso anche il portiere! Ehm! Ma quella è stata bella, proprio bella! Ma la secconda! E' come fa no! Poggia, ti matte! Poggia, là dietro! No, il Moschettino non deve stare lì! Porca giuda! C'è lo scatto! Cazzo, il Moschettino doveva tagliare! Era la palla giusta! A parte che doveva tagliare! Appoggia, là dietro! Prima di perdere il pallone, la tocchi dietro! Ok, la giocata giusta era sull'inserimento di Moschettino! Però se fai infermo! Cioè! Fai! Fai! Infermo dietro, dietro il difensore! Capito? Non sbagliato, non sbagliato! Rai! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Che si segua? Dai andrita in porta! Che! Ha 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 ha! No è vero! Anche la è! Non ne vede cosa sbagliato! Non vede! Voi due! Voi due! Ma che, inquadro bene la porta! Ma no! Merda! Ah! Vieni altri! Vieni altri! Andri! I barbieri ci sarebbe servito, sulla sinistra, credo che sia quasi finito, perché ho già fatto una interruzione, quindi sono 19 della seconda, ci siamo. Madonna che occasione che ci siamo divorati, porco Giuda ragazzi, queste partite qua bisogna spfruttarle tutte. Bravo, 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 vai! Tra alberi, ombrelli, quell'angolo lì è cieco, è cieco Roby, quell'angolo lì è cieco. Bravo, mamma mia, mamma mia, c'era anche farlo sul portiere. L'ha fischiato? Bravo, mamma mia, mamma mia, non sa neanche che ci può essere anche farlo sul portiere. È entrato sotto di lui. Però nel secondo tempo vado là, perché mi sa che c'è più caldo su quei truccioli piuttosto che su acciaio freddo. Ci vengono anche adesso? No, è finita adesso. È già finita? No, però. No, sta finendo. Direi che siamo già in recupero qui. Hai visto? No, sta finendo.